La nuova Vagon di media dimensioni della Volvo, che deriva dalla berlina S60, colpisce subito per una linea filante che rompe con la tradizione della casa svedese. È nella parte posteriore che emerge la differenza con il passato. Il lunotto inclinato esalta la sportività del modello. La V60, come spiega un tecnico della casa svedese, è prima di tutto una vettura sportiva, che può essere utilizzata per il tempo libero. Il suo assemblaggio rappresenta il frutto del lavoro di decine di robot e di una ben sincronizzata catena di montaggio. Con questo stile giovanile sportivo, sottolinea a sua volta una responsabile del marketing Volvo, la V60 si propone come wagon per il mercato europeo e per quello italiano in particolare. Il taglio sportivo lo si nota sia nel frontale, con il muso aggressivo ed inclinato verso il terreno, sia nella parte posteriore, dove spicca il doppio scarico. Tra le doti della V60 c'è anche quella dell'agilità, che la rendono adatta al traffico urbano. Grazie. Grazie. Grazie.